Nonostante le apparenze, i giochi restano aperti. 50-50, 50% di probabilità a favore del Foggia, 50% anche per il Lecco, che comunque con il successo di misura allo Zaccheria vede più vicino il traguardo. Il giorno dopo lo scivolone interno, in gara 1 della finale play-off che mette di cattivo umore sia i rossoneri che la tifoseria, affoggiate nel banco, sono soprattutto le sviste del direttore di gara che, almeno in un paio di circostanze, ha lasciato a desiderare, penalizzando i padroni di casa, beffati poi sul finire dal gol su punizione di Lepore. La rete annullata da Ogunzei e il fallo da rigore commesso ai danni di Frigerio gridano vendetta nella serata in cui, peraltro, la presenza del VAR a bordo campo, almeno in partenza, sembrava essere sinonimo di imparzialità. E invece il Foggia si sente a ragione defraudato per alcune discutibili valutazioni che chiamano sul banco degli imputati il signor Bonacina di Bergamo, la cui designazione per la verità alla vigilia aveva suscitato qualche legittima perplessità. Niente vittimismi, però. Meglio concentrarsi sui 90 di Lecco di domenica prossima che, non è detto, non regalino l'ennesima impresa di Deglio Rossi e dei suoi straordinari ragazzi. Non è finita fino a quando non è finita.